Il Consiglio Comunale si è riunito oggi per una seduta che, come d'abitudine in questo periodo di emergenza sanitaria, si è svolto nella storica Sala dei Baroni al Castel Capuano. Si è proceduto anzitutto alla surroga di Marco Gaudini, di recente nominato assessore, con Alfonso Merolla, che ha aderito al gruppo consigliare Davvero. Si sono poi svolte tre commemorazioni. La consigliera Elena Coccia ha ricordato la figura di Ernesto Nocera, storico rappresentante del mondo del sindacato e del comunismo napoletano. La consigliera Roberta Giova ha ricordato Ludovico Graziani, titolare della storica tipografia di Piazza Dante, luogo di ritrovo e di confronto di personaggi della cultura. E il consigliere Mario Coppeto, infine, ha commemorato il professor Vincenzo Deritis, importante punto di riferimento nel campo della radiologia pediatrica. Tutti scomparsi di recente. Con la presenza di 31 consiglieri e dopo la comunicazione del sindaco circa le nuove nomine in giunta e la ridefinizione delle deleghe degli assessori, il consiglio ha affrontato il question time e successivamente è stato approvato a maggioranza il rinvio delle tre nomine previste e dei debiti fuori bilancio, mentre è stata approvata la modifica del regolamento per la toponomastica e la numerazione civica. Approvati all'unanimità anche gli ordini del giorno del Movimento 5 Stelle per l'istituzione di uno sportello energetico, l'attribuzione al servizio ambiente della competenza sull'affidamento energetico del Comune e la pubblicizzazione delle opportunità di sgravi per l'efficientamento energetico anche per il patrimonio comunale, nonché quello sul progetto alternativo per il carcere nell'ex caserma Cesare Battisti, nella zona rossa dei Campi Flegrei. Respinto a maggioranza invece l'ordine del giorno presentato dal consigliere Vincenzo Moretto sul tema dell'abusivismo nel commercio ambulante.